bella ragazzi bella ora entriamo su among us andiamo su un'applicazione molto divertente sulla quale ho già fatto il video il primo video che ho già caricato su youtube se volete andatevelo tranquillamente a recuperare in questo video faremo una partita ad among us e un'altra partita brawl stars questo è un video abbastanza corto dove faremo questa partita ad among us quest'altra partita a brawl stars e poi vi farò vedere il canale alla quale vi dovete iscrivere sulla quale il video ho già pubblicato che è la massa muccia 2009 in questo video vi lo farò vedere tranquillamente vediamo di segnare tutte le tasche ragazzi ok il live mi ha riportato vediamo probabilmente di la verde scuro vabbè essendo che siamo stati uccisi andiamo direttamente su brawl stars per farci questa partita ragazzi allora mettiamo questo qui di sopravvivenza singola e iniziamo la sopravvivenza la sopravvivenza e ci sono la sopravvivenza le domande la sopravvivenza la sopravvivenza e e e e e un secondo e 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 oddio raga e 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 questo era tutto per il mio video ci vediamo la prossima volta ciao ciao